Non esiste nessun gioco che non possa essere migliorato dall'aggiunta di un rampino, e Bungie sembra averlo capito perché ne aggiungeranno uno con la prossima espansione di Destiny 2. Con l'espansione Lightfall in arrivo al prossimo anno, Destiny 2 avrà una nuova sottoclasse chiamata Strand. La sottoclasse permetterà ai giocatori di accedere a un rampino, o grappling hook se preferite, composto di energia psichica. Non si ha ancora chiarezza su quali saranno le limitazioni per utilizzarlo, sicuramente non ti permetteranno di zippare all'infinito per la mappa, ma di certo aumenterà di molto la mobilità e la frenesia dei combattimenti. Le tre classi di gioco avranno accesso ad abilità uniche legate alla sottoclasse Strand e ovviamente a delle super decisamente vistose.